Mi sono trovato una bottiglia di benzina con una lettera di minacce, per vedere gli agenti della polizia che vengono e fanno il giro a casa mia. Dico che noi facciamo il nostro lavoro, è quello che continuerò a fare sicuro. Però è successa una cosa dopo il collegamento con Anno Zero? Ci ha definito Forcaioli, un editoriale di direttore di Liero Sonsonenti. Ma io dico che non si parla di essere giustizialisti o garantisti, noi pubblichiamo atti giudiziari. Scopellini, Presidente della Regione. Ma sì, avevamo scritto degli articoli riguardanti un'inchiesta del sostituto procuratore Lombardo. Le mie dichiarazioni ad Anno Zero le avevo già scritte da mesi. E poi le inchieste, nessuno accorrerà. Lucio, ma ci permetti? Sei libero? Sei libero? Allora, lo prendo io. Se da una parte c'è lo Stato, dall'altra ce l'andrà anche. E io preferisco stare dalla parte dello Stato. Una cosa che io non accetto è che qualcuno dica tu parli male della calabria, tu sei contro la calabria. Il problema è chi è contro la calabria? Chi scrive la verità o chi in questa calabria se l'è mangiata? Dovete sapere che Lucio Consolino è un giovane amministra calabria. È un giornalista minacciato, poi relato, licenziato e tutt'oggi accusato continuamente di essere colpevole se si svolge il suo lavoro. Nonostante la sua giornalità, mi pare abbia 31 anni, ha un pubblico lungo di tutto rispetto. Scalco, lucido, con uno spiccato senso della giustizia, si occupa di cronaca nera e giudiziaria. Ha raggiocato. La calabria, il che vi assicuro, non è un dettaglio trascurabile. Occorre dunque che tutti sappiamo che la ricerca di stampa e il preso di cronaca sono costantemente minacciati, così come l'incolumità dei giornalisti, che oggi e ogni giorno sono la spasmodica ricerca della verità. Ma stavolta per il professionista 31enne si è impiantato il riguevo. Infatti sono due i gruppi che abbiamo trovato su Lucio Lusonino che lo hanno sempre assecondato nel gioco che sta facendo tutti gli anni. I messaggi di solidarietà, il sdegno, la parte di amici e i correghi sono giunti numerosi. Ricorderete per ultimo solo il caso di Occhio di Montmartino, il famoso finchino, che non c'è bisogno di andare ora. Mentre un gruppo di ragazzi ha creato una pagina Facebook per difendere finalmente, Lucio Mussolino, e che vuole informazioni. Lucio Mussolino, come scriveva giustamente il brodo da Percano nel suo comunicato stampa, è sicuramente un importante riferimento per il giornalismo nazionale. Una schiena dritta che non si piega alle logiche del nuovo affare né da esser si lascia indimidire. Un ringraziamento va quindi alla Commissione che ha portato scelto il collega Regino. Al giovane cronista calabrese, Lucio Mussolino, per l'impegno profuso al servizio di informazioni chiare e puntuali per il contributo che ha fornito per il suo lavoro alla rivoluzione degli ostacoli che riducono in essenza il contenuto dell'articolo 21 della Costituzione. La Commissione Nord ritiene preziosa l'opera svolta sul territorio, maichina all'arroganza, diretta a denunciare il palunque episodio che potrebbe contribuire ad affrontare il terreno della nostra terra nella paluna della disinformazione e dell'ubertà. Grazie. Applausi. 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 Grazie. 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 Grazie.